E' stato presentato al MIPAF, alla presenza del Ministro Mario Catania, il decimo rapporto sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG 2012, realizzate per il Ministero delle Politiche Agricole. Il lavoro, dall'aiato decisamente più snello rispetto agli anni precedenti, è strutturato in tre capitoli principali, analisi di scenario, novità e aspetti legislativi, con una forte focalizzazione sulle famiglie e sul Made in Italy. E' bene ricordare che il mondo delle denominazioni di origine non rappresenta una parte dell'intera produzione dell'agroalimentare italiano, ha detto il Presidente di SME Arturo Semerari, evidenziando che i brillanti risultati ottenuti da questo settore non possono essere applicati al comparto agroalimentare in generale. Dal rapporto infatti si evidenzia una situazione positiva per le denominazioni di origine, con un fatturato al consumo di circa 12 miliardi di euro, con un incremento del 5% al dato precedente. Sul panorama europeo, l'Italia con le sue 248, di cui 154 denominazioni di origine protetta, 92 indicazioni geografiche protette e due specialità tradizionali garantite e 84 mila aziende coinvolte, rimane in testa la classifica dei paesi che vantano certificazioni di origine seguita soltanto dalla Francia con 192 e si conferma leader mondiale per numero di produzioni certificate. Va comunque segnalato che l'84% del mercato è ancora in mano a 10 denominazioni di origine principali. I canali di distribuzione rimangono sostanzialmente i soliti, con un 44% della grande distribuzione organizzata e un 33% dei grossisti, che perdono tuttavia terreno a favore dei cosiddetti ORECA, ossia il ramo di mercato costituito da hotel, ristoranti e catering. Tra le denominazioni di origine la parte del leone nei consumi è ancora ricoperta dai formaggi 35% e prodotti a base di carne con il 39%.